Salve ragazzi, ben ritrovati a questa nuova puntata del programma Easy Dance Cominciamo subito con le basi di salsa e successivamente faremo quelle di baciare Bene ragazzi a vostri posti 7, 8 e 1 Batti l'altra e richiudi Ancora 7, 8 e 1, 2 e 3 La stessa cosa farà dall'altra parte Qui 5, 6 e 7 Le braccia insegneranno dei cerchi E il bacino si muove un po' 3, 2, 1 e 1, 2 e 3 Una pausa 5, 6, 7 Ancora 1, 2 e 3 5, 6, 7 E 1, 2 e 3 5, 6, 7 1, 2 e 3 E 5, 6, 7 Adesso facciamo la base sull'odietro 1, 2 e 3 Ancora E 1, 2 e 3 Stessa cosa dall'altra parte Quindi 5, 6 e 7 Da capo 1, 2 e 3 5, 6, 7 Ancora 1, 2 e 3 E 5, 6, 7 Adesso faremo la base avanti e indietro Qui 1, patto l'altra E torno di nuovo in posizione chiusa Quindi sarà E 1, 2 e 3 Farò la stessa cosa con l'altra gamba andando indietro Quindi 5, 6 e 7 Ancora dietro 5, 6 e 7 Adesso farò la base completa Una volta avanti e una volta dietro E 1, 2 e 3 5, 6, 7 1, 2 e 3 5, 6, 7 1, 2 e 3 E 5, 6, 7 E 1, 2 e 3 E 5, 6, 7 Adesso proviamo tutto con la musica 1, 2 e 3 Vai 1, 2 e 3 5, 6, 7 1, 2 e 3 5, 6, 7 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Adesso la base 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Ora l'aneral 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10. Bene ragazzi, adesso facciamo la stessa cosa, ma in coppia con le nostre ballerine solo dietro uno, duele, tre uno, duele, tre una, duele, tre uno, duele, tre sin regreso me han matado una, diez, de cero se arrugan si me han solido naturales la niña mia sabes que no eres de nada oh no vivir la vida sola con la plata solo dietro si la base la finales solo dietro una, duele, tre una, duele, tre tre, tre tre, tre tre, tre bene dopo aver ballato la salsa è la volta della baciata vai con il passo base quindi passo raggiungo due al tre un altro passo avvicina avvicina poco 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 la gamba scadica il bacino e tiralo su quindi sarà tre e quattro da capo una, duele, tre una, duele, tre una, duele, tre una, duele, tre e quattro e quattro e quattro e quattro e quattro cosa facendo avanti e indietro, quindi cammino avanti, passo, raggiungo un altro passo e da qui farò lo stesso movimento caratteristico della baciata e su, rifacciamo ancora il movimento del bacino e su, adesso vado indietro con questa gamba, passo, raggiungo, passo, lascio la gamba avanti, scarico il bacino e su, ancora bacino e su, 3, 2, 1, avanzo, passo, passo, passo e su, su, 1, 2, 3, e qua, 5, 6, 7, 8, a questo punto farò la base swing, cioè lato e su, lato e su, lato e su, lato e su, conteggio, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, e qua, 5, 6, 7, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adesso tutto con la musica e su, lato 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 e e ricominciamo da capo, vai, 1, 2, 3, bene, vai, avassi, e, passi swing sul posto, e, bene, ragazzi, adesso proviamo tutto quello che abbiamo fatto, ma in coppia con la nostra ballerina, pronti, musica! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, vai con la base, 1, 2, 3, 4, avassi, 6, 7, e, e, passi swing sul posto, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e, passi swing sul posto, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e, passi swing sul posto, e, e, passi swing sul posto, 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 e, passi swing sul post E purtroppo anche questa puntata di Easy Dance termina qui Ma prima di passare i saluti vorrei conoscere il maestro di queste due bellissime coppie Per voi Claudio, il maestro Claudio Grazie Claudio Claudio grazie per essere venuto qui in trasmissione da noi Grazie a voi che ci avete aspidato Non tanto a me ma quanto a loro che per loro è la prima esperienza televisiva che fanno Sicuramente si sono divertiti Sono fantastici, belli, solidi Sicuramente Ok, volevo farti una domanda Questi ragazzi hanno trasmesso così tanta passione Ma vorrei chiederti quante volte si allenano a settimana? Questi ragazzi in realtà si allenano un paio di volte a settimana E diciamo poi quando ci sono le gare in preparazione eccetera E fanno qualche allenamento in più eccetera Ok, quindi hanno già fatto delle gare? Allora l'anno scorso hanno fatto il trofeo Stardust È una gara molto molto carina di a livello amatoriale Devo dire che hanno avuto buoni risultati Bene E sono comportati bene Poi insomma vedere questi ragazzi che ballano è proprio... Al di là di chi è la posizione Sì Va bene, ok Ringraziamo la mia ballerina a queste due meravigliose coppie Maestro Claudio E per quanto riguarda Easy Dance Un abbraccio Ci vediamo alla prossima Grazie ragazzi Ti aspettiamo qui Assieme a noi Ci divertiamo Non ci annoiamo mai Easy Dance E per quanto riguarda le gare? Grazie a tutti.